Entra sotto le tribune per il lancio, l'errore di Perla Daimont, l'errore di Picosma Foto SM, dall'esterno Paolo Il Leone cerca di scavalcare tutti, al comando Paolo Il Leone si va sulla prima curva, secondo in corda il 2 di Pokerstar, all'esterno c'è il numero 4 di Power De Gliulivi, mentre Perseo Dasolo già naviga a centropista, c'è Pokerstar che ha anticipato Power De Gliulivi in terza ruota Perseo Dasolo, i 3 a lottare per la posizione con Perseo Dasolo il favorito che insiste a largo i primi 400 di gara veloci, 2.14.9 per questo parziale e Perseo Dasolo non ne volse per nulla. e va al comando. Guida Perseo, davanti a Pokerstar, all'esterno è rimasto Power De Gliulivi, lungo lo steccato ancora Paolo Il Leone, all'esterno Playboy con Perseo Dasolo che macina metri, 15 anche per questo paletto, in mano a Santo Giordano, un altro parziale in 14.9, il ritmo è costante per Perseo Dasolo che ha 2 di margine nei confronti di Pokerstar, Poi terzo in corda Paolo Il Leone davanti al numero 8 Pay Per View, cavalli che giungono al chilometro, 15.4 per questo paletto, Perseo Dasolo che sembra trottare per proprio conto, Pokerstar viene stappato per cercare di riavvicinarsi, Paolo Il Leone comandato per restare terzo, ha spostato Patrick Rosso, si attacca la curva, un altro parziale in 14.9, sempre attorno al 15 i paletti di Perseo Dasolo che sulla curva 6-7 lunghezze da Pokerstar che cerca di tenere botta, quando si entra in retta d'arrivo un altro parziale in 15, passista sull'ordine dei due minuti questo Perseo Dasolo che va a vincere ancora una volta e lo fa da assoluto dominatore, altra categoria per Perseo Dasolo davanti a Pokerstar, mentre per il terzo all'esterno a centropista c'è Paolo Il Leone che forse riesce a tenere qualcosa sul numero 7 di Patrick Rosso. Dovrebbe essere 1.15 e qualcosa il tempo al chilometro del vincitore Perseo Dasolo con la guida di Santo Giordano, il training di Atto Spelloni, va fortissimo questo Perseo. Grazie a tutti.